Che cos'hanno in comune Michael Jordan, Kanye West e Andre Agassi? Sono Kiko Giuliani e vi assicuro che una risposta c'è. Fresh and Sneak, il podcast senza tecnicismi sul lato pop delle sneakers. Ogni episodio una scarpa leggendaria. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast, sull'app di Radio DJ e su tutte le principali piattaforme. Io cosa volete che mi dica ragazzi? Dopo la partita dell'Inter come posso stare bene oggi? L'avete seguita quella cosa lì? No, cosa è successo? Ah vedi? Mi chiedevo, è stata una cosa così epocale che anche chi non segue il calcio ne ha sentito un po' parlare? No, ok basta, allora fine. Allora vuol dire che interessa solo quelli del calcio e possiamo tranquillamente... No, non è vero, qualcosa ho sentito. Hai sentito, abbiamo perso con un infortunio di un povero ragazzo che ha giocato poco fino adesso, ieri ha giocato e ha combinato il frittatone e quindi volevo approfittarne per attraverso Radio DJ dargli una pacca sulla spalla, no dargli una pacca sulla spalla perché al di là del calcio eccetera è proprio l'esempio di quando una cosa ti va male 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 ma proprio male davanti a tutti e io ieri ero un po' incazzato perché l'Inter ha perso ma una parte di me era anche proprio triste per questo ragazzo giovane così che ha giocato poco e ieri l'ha proprio combinata grossa. Hai empatizzato? Volevo abbracciare, sì perché capita, quando capita è bruttissimo, ti sembra che tutto il mondo ti voglia uccidere e volevo abbracciarlo attraverso Radio DJ. Caro Radu, non ti preoccupare, è andata così, è andata così ma ti vogliamo bene lo stesso. Luna a Luna, il notiziario quotidiano dell'innovazione, curato e diretto da Riccardo Luna. Tutti i giorni, un paio di minuti per parlarvi di futuro, non di fantascienza ma di come le nostre vite stanno cambiando con le opportunità offerte dalla tecnologia. Ogni giorno a Luna su Radio Capital, sull'app di One Podcast e su tutte le principali piattaforme.